L'Iter sta procedendo senza intoppi, come detto la settimana scorsa si sono conclusi i termini di pubblicazione del bando, in questo momento si sta aspettando la nomina della Commissione da parte dell'Urega, il dirigente De Francesco ha già scritto affinché l'Urega nomini la Commissione al più presto, ci sono dieci giorni, quindi nel corso di questa settimana o nei primi giorni della prossima si dovrebbe concludere tutto, dopodiché la Commissione valuterà naturalmente le proposte e si procederà quindi all'aggiudicazione della gara. Contestualmente il lavoro che stiamo facendo di concerto, perché chiaramente c'è anche una dimensione di indirizzo politico, riguarda il cominciare a ragionare sulla distribuzione delle fasce, naturalmente il punto di riferimento da cui partire è la delibera proposta all'epoca dall'assessora Panarello con la previsione dell'esenzione per il reddito 0, reddito ISEE 0 e una contribuzione progressiva, chiaramente l'intenzione è quella di rifarsi e quella delibera, prevedendo eventualmente qualche piccolo aggiustamento, però naturalmente andando incontro alle esigenze di chi versa in condizioni oggettive di difficoltà. Naturalmente dipende dall'espletamento della gara, sono atti nei quali è naturale che non posso in alcun modo interferire. Credo comunque che a questo punto il grosso sia stato realmente fatto, immagino che a febbraio si dovrebbe poter partire e soprattutto, questa è la cosa che mi sta più a cuore, questa volta quando si partirà si resterà tranquilli per i prossimi anni. Per questo abbiamo fortemente voluto un bando pluriennale, anche se questo ha portato a dei rallentamenti in fase di aggiudicazione, in fase soprattutto di predisposizione del bando, però questo ci consente di dare serenità alle famiglie, continuità al servizio e di garantire i diritti dei più piccoli e delle più piccole.